Non so se ci avete mai fatto caso, ma spesso dove ci sono le strisce pedonali c'è sempre il lago di acqua. Dopo un temporale c'è l'acqua che si ferma sempre in questa zona qua. Allora, invece delle strisce pedonali bisognerebbe mettere la canoa. Dovresti usare gli stivali per attraversare. Ok, ciao a tutti. Oggi è lunedì 9 settembre 2019. Siamo in Alessandria. Quel viale lì è il viale Miriti Gnoto e lì c'è via Marzina. Ok, ciao a tutti. Grazie. Grazie.